Alla prima mezza difficoltà purtroppo ci siamo intimoriti, impauriti e abbiamo lasciato i fianchi agli avversari che ne hanno presi e ci hanno fatto tre gol purtroppo in un primo tempo, credo molto molto brutto. Nell'intervallo ci siamo guardati, abbiamo detto che non avremmo potuto continuare a fare quello che stavamo facendo perché sapevamo fare molto meglio e qualcosina di diverso l'abbiamo fatto. Peccato non essere riusciti completamente a riaprire la partita perché ci potevano essere i margini anche per il risultato. Andiamo a casa con un'altra sconfitta, la seconda consecutiva molto pesante e questo ci dispiace però abbiamo una medicina sola che è quella del lavoro e proveremo a lavorare ancora di più per cercare di migliorare. Avremmo voluto fare meglio nel primo tempo purtroppo la tanta voglia di voler provare a rimettere in piedi il risultato della settimana scorsa ha fatto sì che fossimo lucidi e coraggiosi nel fare quello che sappiamo fare perché poi nella ripresa abbiamo visto che abbiamo le qualità anche per mettere in difficoltà questi avversari invece nella prima frazione ogni palla che veniva scodellata al di là del nostro centrocampo purtroppo ci ha messo in difficoltà e questo non deve accadere. Proveremo con il lavoro a renderci un po' più solidi perché oggi abbiamo dato nel primo tempo la sensazione di essere tanto fragili e questo purtroppo non deve succedere. Ma sicuramente non siamo stati sbarazzini come potevamo essere, non abbiamo espresso le nostre qualità quindi qualcosina c'è che ci frena, i risultati non ci stanno aiutando però fanno parte di questo sport purtroppo a noi dispiace prendere questi risultati negativi e proveremo a cambiare a partire dalla prossima. Noi ovviamente per arrivare a fare quello che abbiamo fatto abbiamo messo in lavoro anche nella prima parte della stagione abbiamo dei difensori che stanno facendo nel campionato le prime partite insieme quindi non hanno le loro conoscenze, non hanno fatto partite insieme quindi sicuramente è un po' più complicato però proveremo a lavorare ancora di più per accorciare i tempi e ritrovare la compattezza che ci ha contraddistinto nella seconda parte del giorno d'andata. Sicuramente non è decisiva però da come ho visto che era la partita scorsa purtroppo sappiamo che sarà molto importante per noi ne mancherebbero tante altre dopo quindi sicuramente non sarà decisiva però sarà importante perché abbiamo voglia di fare risultati diversi da quelli che abbiamo fatto nelle ultime due partite. Mi sento di dire quello che abbiamo detto domenica scorsa che purtroppo non era la prestazione del primo tempo che volevamo fare nel secondo tempo siamo stati un pizzico migliori nel fare quello che ci appartiene però purtroppo questo risultato non ci fa felice e ci dispiace per la tanta gente che ci ha seguito e che avrebbe voluto sicuramente un qualcosa di diverso. Ti senti in discussione dopo questo risultato? Ma io sempre mi sento in discussione quando nessuno pensa o l'ha pensato che io lo fossi mi ci sono messo da solo quindi sono sempre in discussione con me stesso poi non sta a me decidere altre cose io so quello che sto facendo e so come lo sto facendo.